Buongiorno a tutti, oggi è venerdì, siamo sempre meno, sempre meno, Paolo, 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 e si è seduto. Mi è venuta, allora, volevo dedicare una barzellettina a mia amica Sceffa, Lidia, di Rio Freddo, confine Lazio-Abruzzo, che l'ho conosciuta a Scelluto e lei ha una puntata, ha vinto, con questa barzellettina qua, che poi potrebbe essere per quei tuoi due amici. Allora, queste tre signore si trovano, ecco, allora come va, ragazze, mi è successa una roba vergognosissima, era tanto, sempre non facevo l'amore così, però l'altro giorno, ieri, mi è venuto fuori mio marito con la capattoria sotto la doccia, io spontaneamente sono andato lì, gli ho toccato le palle, gli ho detto, che calde, che calde, lui ha cominciato a trattare la secità, una roba, una roba, ha toccato le palle di Vincenzo, una roba spettacolare. Il giorno dopo si ritrova, ma sai che, hai fatto tu, sono andato da Paolo, è venuto fuori da quell'accappatoio, ho fatto, come fai te, è toccato, mi è venuta una voglia, lui, a me è un spettacolo, ma da provo. Arriva il giorno dopo, la terza non arrivava, aspetta, aspetta, arriva lì tutto, come fai, cosa è successo? Una roba, una roba strana, una roba strana, perché, ma è fatto come, come avete fatto voi, è venuto fuori mio marito, Sergio, con la capattoria, sono andato lì, gli ho toccato le palle, ma non sono calde come quelle di Vincenzo e Paolo. Questa è una, ciao a tutti, ci vediamo, lunedì, a mio piacere, alle tre sorelle, quelle delle 7.20, 7.21, perfetti, ciao, ciao. Grazie a tutti.